Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo al quartiere Paolo VI di Taranto, via 25 Aprile, palazzina C3, scala A, la zona delle cosiddette case bianche e alcuni cittadini, alcuni abitanti della zona ci hanno sottolineato, hanno sottoposto alla nostra attenzione una situazione davvero di degrado assoluto, le varie tubazioni fognarie che praticamente sono rotte e quindi ci sono delle continue perdite di fogna, le cantinule, gli scantinati risultano allagati, completamente allagati, non vi dico l'odore, la puzza che si sente, qualcosa di si avverte, meno male che la telecamera non riesce, non può riprodurre questi odori, ma ci si trova in una situazione di degrado assoluto. Parliamo di abitazioni che appartengono allo IACP, sono quindi case popolari che sono state anni e anni fa assegnate ai cittadini. Numerosissime le segnalazioni da parte dei cittadini hanno sollevato più volte la questione allo IACP, all'amministrazione comunale di Taranto, ma come si suol dire le trombe d'eustacchio fanno tutta una comunicazione, da un orecchio entra e dall'altro esce. Parliamo di cittadini che hanno diritto ad una vita dignitosa, cittadini che devono vivere in una situazione di... sono cittadini che in fondo non stanno chiedendo nulla, stanno solo chiedendo un minimo di condizioni accettabili, un'igiene pubblica, perché poi vedete si crea un altro problema. Nel momento in cui le cantinole sono invase dalle acque di fogna, pensate che poi a lungo andare queste acque vengono assorbite, ma nel momento in cui vengono assorbite non fanno altro che vanno ad intaccare le fondamenta, vanno a intaccare in buona sostanza, a minare la sicurezza, proprio la struttura, lo dico in termini non tecnici, muraria del palazzo, delle abitazioni stesse. In parole povere, questi palazzi vengono corrosi dall'acqua, dall'acqua di fogna e non si tratta di un fatto episodico che accade qualche volta, ma accade sempre. E quindi immaginate questa gente, questi palazzi che praticamente hanno le loro fondamenta invase dalle acque di fogna. Immaginate come si corrodano, si sgretolino. Poi ci lamentiamo quando cadono, crollano i ponti, quando crollano i palazzi. Ebbè, è come dire, ogni goccia, dice il proverbio, erode la roccia. E immaginate voi questa situazione protratta per anni e anni e un bel giorno, un brutto giorno potrebbe accadere davvero qualcosa di irreparabile. I cittadini si sono rivolti allo IACP, si sono rivolti al numero verde, ma nessun intervento. Si sono rivolti anche all'amministrazione comunale, perché poi chiaramente l'amministrazione comunale deve anche alzare la voce nei confronti dello IACP. Noi attendiamo risposte e saremo vicini a questa battaglia che è una, consentitevelo, una battaglia di vita, una battaglia di civiltà. Ci troviamo nel 2018 dopo Cristo, non avanti Cristo. Ricordatelo, signori dell'OIACP, ricordatevelo. Noi saremo sempre alle vostre calcagna, vi controlleremo, controlleremo il vostro operato per far sì che questa gente abbia condizioni di vita dignitose.